allora rifaccio questo video perché ho fatto tutto il video poi mi sono accorta che non era partito bellissimo ti stavo dicendo che vedendo questo video probabilmente non ti renderai conto di dove mi trovo peccato perché abbiamo appena passato una zona del canale molto bella dove c'erano tutte le casette proprio sul canale che era molto molto carina e comunque adesso ti ti racconterò che cosa ho piacere di farti fare di proporti con questo video di oggi mi sono anche presa una bella ondata una bella lavata poteva essere carino in diretta allora oggi fai questo immaginati di percorrere la tua vita come quando tu percorri un fiume lungo il fiume tu che cosa incontrerai lungo la vita che cosa incontrerai nelle cose che ti piacciono e delle cose che non ti piacciono delle cose che tu vuoi accogliere nella tua esistenza sia eventi sia modalità comportamentali persone qualsiasi cosa e troverai anche delle cose ovviamente ti suggerisco sempre di scegliere non in base all'ego ma in base al tuo sentire in base al cuore questo lo dico tutte tutte le volte ho l'acqua che cola da tutte le parti l'acqua del fiume tra l'altro non è sporca di più quindi va bene non ti dico altro e quindi tutte le cose che tu non desideri integrare nella tua esistenza come potrebbero essere non so la superficialità come potrebbe essere qualsiasi cosa che non ami lo lasci andare mentre invece tutte le cose belle che vuoi integrare le accogli nella tua vita fai questo in meditazione e poi segnati tutte le cose belle che vuoi integrare nella tua esistenza va bene allora buonissimo lavoro e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao